Un po' di attenzione, consiglio di un sito, un po' di attenzione, direttamente un punto che è in distanza, un posto particolare che ha, come questa maestra. Un po' di attenzione, consiglio di un sito, un po' di attenzione, direttamente un po' di attenzione. Un po' di attenzione, consiglio di un po' di attenzione, consiglio di un po' di attenzione, ci siamo scattati su un capo per l'invio e il ritiro, e poi, quando si tratta di nazionale, il sito di fuori bilancio e i numeri con i dati creano a questo punto, noi fuggiamo, meglio, la maggior parte dei consigli di attenzione. Ogni giorno che passa, i nemici di fuori bilancio non vengono approvati o ricettati, credito, che non chiede prestazione, da un consiglio, un'altra, perché si è buscata, sostanzialmente un po' di attenzione. Allora, dopo le minacce del consigliere Lanzano, siete tutti quanti a votare, avete votato, avete ritrovato maggioranza con le minacce del consigliere Lanzano, e che chi vota è maggioranza, chi non vota, è valutato con le votazioni. Allora, il problema a parlare di un po' di bilancio è una cosa che stanno bene così delicato, con tutta una risa stessa, soddisfatta di aver portato a casa questo grandissimo visitato, di aver fittiato, naturalmente, deiense meno di testato, ma... Inizialmente, con le minacce, sinistra, inizialmente. Dicendo, è bello per non parlare del Soviglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.